Ciao ragazze, allora benvenuti al solito appuntamento mensile dei promossi e bozzati del mese di dicembre Allora inizio subito da un prodotto Nii, perché c'è solo insomma un prodotto ed è questa crema della Midas che mi è stata inviata per testarla Allora che dire, questa crema ha un inci completamente verde Ha tutti questi ingredienti, olio di mandorle dolci, estratti di olio vera, camomilla, amamelide, jojoba, limone, olio essenziale di limone e vitamina E E questo è l'inci Ha un inci completamente verde, è 100 ml di prodotto ed ha una scadenza di 6 mesi L'ho provata durante questo mese e devo dire che è molto molto buona Però l'unica cosa che non mi piace di questa crema è la sensazione che rilascia sulle mani Cioè vi lascia le mani un po' viscidine E poi vi crea tipo una patina Cioè io ora l'ho messa Perché tengo sempre le mani secche Vi crea tipo una patina lucida Cioè non so come spiegarvi Cioè non mi piace, si asciuga subito e non mi piace la sensazione che lascia questa crema sulle mani Cioè è troppo, non lo so, è strano Mi rilascia le mani un po' viscidine Non so spiegarmi in altro modo È un buonissimo prodotto perché vi ripeto ha un inci completamente verde Sarà che magari sulla mia tipologia di pelle si comporta così Quindi che mi rilascia questa sensazione viscida tra le mani Però vi ripeto è l'unica cosa che mi fa mettere questo prodotto nei nì Non mi piace come il dopo Cioè dopo aver applicato questa crema Le mie mani non sono soffici e morbide Ma hanno questa cosa viscida Che mi dà insomma un po' fastidio L'ho messa per spiegare la sensazione Però non ci riesco Comunque magari vi ripeto è la mia tipologia di pelle Che diciamo non è adatta Però a me, su di me fa questa cosa qui Quindi non lo so Il prodotto è buono perché davvero nutre a fondo la pelle E l'inci è totalmente verde Quindi soprattutto per le ragazze che amano l'inci perfetto Vi consiglio di andare a vedere il sito della Midas Perché i loro prodotti sono completamente biologici Quindi potete darci un'occhiata e vedere se vi interessa qualcosa Io personalmente non riprenderei questa crema Semplicemente per la sensazione che mi rilascia sulle mie mani Cioè questa sensazione viscidina Non mi piace insomma Però comunque mi idrata bene la pelle e le mani Devo dire la verità Me le nutre a fondo L'unica cosa è che non amo la sensazione che mi rilascia Poi vi faccio vedere Un fatto dagli accessori Vi faccio vedere questi quattro pennelli viso Che avevo visto mesi fa su facebook da Marzia Ciao Se mi vedi tesoro Penso di sì perché leggo i tuoi commenti E come sai ti rispondo Mi pare che lei aveva comprato il set anche con gli occhi E avevo chiesto informazioni su dove acquistare questo set di pennelli Il mio si chiama Il mio è della marca Style Master L'ho preso su eBay da un cinese Ed è composto da quattro pennelli viso Questo qui che è tipo tagliato Lo sto utilizzando per il blush Scusate che sono sporchi Questo qui l'ho utilizzato per il correttore Perché ha questa forma tipo a punta E lo utilizzo insomma per il correttore L'ho utilizzato per il correttore Questo qua da fondotinta Perché assomiglia moltissimo a quello lì Che ho delle Real Techniques E questo è un flat Insomma che assomiglia molto al powder brush di Elf E lo sto utilizzando insomma per la cipria E che dire di questi pennelli Mi ci sto trovando bene Come potete vedere sono tutti super cicciotti Ed hanno delle fibre E sono con fibre sintetiche Il prezzo Questo set se non sbaglio L'ho pagato intorno ai 5-6 euro E mi è arrivato dopo un bel po' Dopo due mesi e mezzo Che ho aspettato Ma questo perché la posta a me non arriva Infatti per chi mi segue su Facebook Sa insomma delle mie lamentele Che la posta insomma non mi arriva E mi è sbraito da sola E mi è arrivato dopo due mesi e mezzo Dianto è vero a questo povero Cristo Ho chiesto anche il rimborso Perché pensavo che i pennelli non mi arrivavano Invece dopo due o tre settimane I pennelli insomma mi sono arrivati Le poste me le hanno consegnate E purtroppo insomma il signore ha perso i soldi Quando poi me le aveva spediti E per colpa delle poste italiane Cioè ci ha dovuto rivittere Poi un altro set Questo qui però me lo manda Me l'ha mandato un'azienda Ed è il sito Born Pretty Store Oddio ragazze scusate il rossetto dei denti Che vergogna Ed è il sito Born Pretty Store Vi lascio giù nell'info box Il link a questo sito Perché vende un sacco di robe Da pennelli Cover per cellulari Prodotti per nail art Spugnette per il trucco Tante 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 cose Ho scelto Questo è il sito www.bornprettystore.com Ho scelto questo set Di pennelli rossi Molto molto natalizio C'è da dire E praticamente Tiene È completo Perché c'ha Un pennello angolato Che mi serviva Perché io di questo genere Qua come potete vedere Tagliato così Ne ho solo uno Un pennello eyeliner Uno a spugnetta Dura Che sembra tipo a penna Un pennello viso Che devo dire la verità Ancora non ho utilizzato Però è molto morbido Un pennello Da Diciamo sfumatura Così Un pennellino da labbra E uno da Ombretto È molto pratico Perché come potete vedere Si presenta in questa Borsettina di pelle Di pelle rossa E all'interno contiene Tutti i pennelli Che vi servono Per realizzare un trucco È davvero Molto molto pratico E funzionale Perché vi ripeto Ci sta tutto Cioè veramente C'è C'è tutto Magari Questo qui Non è adatto Per il fondo O per qualche Magari lo potete utilizzare Per il blush Vi dovete portare Soltanto Un pennello Da Da fondo È l'unica L'unica cosa Come sempre Mi cade tutto E questo qua È della marca Makeup Paston Questo qua È sempre Un sito Cinese E se non sbaglio Questo set Qui costa intorno Ai 10 12 dollari Non mi vorrei sbagliare Vi Faccio Vi scrivo Meglio tutto Nell'info box Quindi se vi interessa Questo Genere di Di prodotto Leggete giù Nell'info box Che vi dico Più o meno Quanto costa O Perché non mi ricordo Io vi ripeto Mi è stato inviato Per Per Provarlo Da questo sito qua Che già in passato Avevo Collaborato con loro Ed è Questo sito Qui Il Born Pretty Store E quindi Tra i promossi C'è sia Questo set Di pennelli Che questo set Qui Che vi ripeto Ragazzi Per 5 euro È davvero Buona Come Sono Davvero Buoni Come Pennelli Li ho già Lavati Devo dire Non mi hanno Creato Alcun problema Poi Altri prodotti Promossi Vi faccio Vedere Subito Questa Matita Per sopracciglia Della Catrice Della Eye Brown La mia È nella tonalità 030 Brown Eye Peas E mi piace Molto Questa Matita Qui Perché Ha Un'alta Quantità Di cera Al suo interno Quindi Si fissa Benissimo E non Si sbava Che è la cosa Che più odio Delle matite Perché Tendono Comunque A sbavare Per questo Io prediligo Per farmi Le sopracciglia Prodotti Come Eyeliner O tinte Per sopracciglia Che fanno L'effetto Tatuato Sono stanca Di ripetere Sempre le stesse cose Non mi interessa Cosa pensate Delle mie sopracciglia Che cosa ho fatto Cosa non ho fatto Io me le disegno Perché a me Piacciono Non devono piacere A voi Ne mi interessa Il vostro parere O sotto Ogni Mio video Che cosa Hai fatto Le sopracciglia Che cosa Dina Le sopracciglia Che cosa È questo E che cosa È quello Mi sono stufata Io mi disegno Le sopracciglia Perché mi piacciono Mi piace L'effetto Tatuato E le preferisco Che si notano Insomma Che hanno Questo effetto Finto Le voglio Finte Non sono affari Vostri E quindi Insomma Mi piace Molto Questo prodotto Perché fa Proprio L'effetto Finto Perché fissa Bene Tutti i peli E vi fa Proprio L'effetto Tatuaggio Rispetto Ad altri Prodotti Che ho Per Per sopracciglia Questo qui Mi piace Molto Perché Non sbava Fissa Bene Perché c'è Un'alta Quantità Di cera All'interno E mi piace L'effetto Che da Alle sopracciglia In più Mi piace C'è anche Questo Sottospecie Di pettinino Che aiuta Insomma A pettinare Bene Le ciglia Dopo aver Applicato La La Matita E Questo prodotto Insomma Mi piace Molto Grazie Alla mia amica Mara Ho avuto Modo Di provarlo Perché Da me Catrice Non c'è E ve lo Ve lo Straconsiglio Se ancora Non l'avete Provato E se vi Piace L'effetto Finto Delle sopracciglia A me Piace Tanto Insomma Poi Un altro Prodotto Promosso E questo Eye Sorbet Della Essence Adoro Questo ombretto Perché E lo utilizzo Soprattutto Per dare Un tocco Di luce A altri A vari Trucchi Ad esempio Li metto Sopra Ombretti Per Esaltare Il colore O per Dargli Questo effetto Perlescente Questo qui Nella tonalità 02 Illuminating Raspberry Ma le fa Di altre colorazioni Il succo È sempre questo Cioè Che Questi ombrettini Qua Rilasciano Semplicemente Se riesco Con l'unghia Infatti Rilasciano Semplicemente Dei Dei Glitterini Adesso Insomma Sembra Con il colore Però Se lo vado A stendere Bene Vedete Tutti Micro glitter Colorati Per Insomma Colorare La palpebra Vi consiglio Di stendere Questo prodotto Con un pennello A setole sintetiche E Insomma Vi permette Anche di rilasciare Il colore Dell'ombretto Che Avete scelto Io Vi ripeto Lo utilizzo O da sopra Altri ombretti O come base Perché È molto luminoso E Esalta I riflessi Di tutti I tipi Di ombretti Quindi Mi sta piacendo Molto E Ve lo stra consiglio Tra l'altro Mi piace anche La confezione Che è in vetro E trovo Che si conserva Di più Il prodotto Rispetto a Quelli lì Vecchi Di Essence Che sono Quelli lì Sempre cremosi Non mi ricordo Il Il nome Si conserva Meglio il prodotto Infatti Ce l'ho da parecchio Tempo Da diverso tempo E devo dire Non mi Si è steccato È sempre rimasto Di quella Qualità Insomma Morbida Di questa Consistenza Ammus E Insomma Mi piace anche Il packaging Di Questo ombrettino Qua Poi Vi faccio vedere Un altro prodotto Che sto amando Ed è Un rossettino Della Berry M Che vi ho mostrato Già su facebook O su varie foto Su facebook Ed è il numero 52 Ovvero Il dupe esatto Del candy Yum Yum Di MAC Questo È il Colore Ed è Purtroppo Sembra Un Rosa normale Ma vi assicuro È Un fucsia Shocking Cioè Questo è il colore È completamente Matteo Mi dispiace Che non rende Ma è un Fucsia Shocking Cioè Non è così Tenue Come vedete È proprio Fluo Cioè Qualcosa di Figherrimo Questo rossetto È stupendo L'ho pagato 6 euro Dal sito di Asos Con spedizioni Gratuite Con il corriere Bartolini E ho aspettato Tipo 5 giorni E il rossettino Era già Qui da me E insomma Lo adoro Ragazzi Mi dispiace Che questa webcam Non rende bene Il colore Perché sembra Un rosa Banalissimo Però Vi assicuro Che È Bello intenso Al limite Alla fine di questo video Mi metto Una foto Dove indosso Questo Questo rossetto Si facciamo Prima così Vi metto Una foto Dove indosso Questo rossetto E insomma È promossissimo Dura tantissimo Vi faccio vedere Non si riesce Neanche a struccare Lo adoro Dura Un botto L'unica cosa Secca un pochettino Le labbra Ma essendo Un rossetto Matte Tutti i rossetti Matte Purtroppo Seccano Un pochettino Le labbra Perché già La loro Consistenza La loro Texture È abbastanza Secca E Buonissimo L'ho pagato Un 6 euro Però vi ripeto È identico Allo Candy Am Am Cioè Ho visto Un video Di una ragazza Cioè Penso Che comunque Voi Tenete presenti Chi è È una Tra le ragazze Che ha vinto Il concorso Di Paola P Per la BV Collection E lei Ha sia Il Candy Am Am Che questo Di Il rossetto Di Barry Am Era come Quello Di Mac Non Ci andava a spendere 18 euro E 50 Per lo stesso Identico rossetto Che però Ti compri A 6 euro Quindi Vi straconsiglio Il 52 Di Barry Am Sul sito Di Asos Poi Altri Due Altri Altri Due Prodotti Abbiamo Finito Perché Già Siamo A 16 Minuti E Questo Correttore Qui Che mi ha Mandato Mara Ed è Catrice Camouflage Cream Che finalmente Sono riuscita A provarlo Anche io Ero curiosa Come una scimmia Di provare Questo correttore Che tutti Hanno detto Che è Super Super Corrente E il Duple Del correttore Di Mac È Fantastico È Bellissimo E devo Dire Che è Buono Ce l'ho Adesso E come Vedete Vedere Io E vi assicuro Che io Tengo il nero Che mi arriva Fino a qua È Fantastico Basta Una piccola Piccola Quantità Di prodotto E Si stende Bene Illumina Anche Il Il viso Mi piace Molto E Ha una coprenza Ragazze Ottima Davvero Ottima È 3 grammi Di prodotto Il mio È Nella tonalità 020 Light Beige Ed è Questa Questa Qui E Da Una scadenza Di 6 mesi Lo trovo Davvero Buonissimo E Se non sbaglio Non ha neanche Un prezzo Eccessivo Per il prodotto Che è Rispetto Magari A quello Lì Tondo Di Chico Che costa 7 euro Mi comprate Due Di questi E La resa È Uguale Se non Migliore Per quanto riguarda Insomma La coprenza Poi Come ultimi Prodotti Vi voglio Mostrare Due prodotti Della Labo Che promuovo A pieni voti Ed è La BB Cream Perché si è persa La review Dei prodotti Della Labo Che mi sono stati Gentilmente Omaggiati Dall'azienda Ci tengo A precisarlo Vi lascio Giù Nell'info Box Il link Dove Vi parlo Di questi Prodotti Ed è La BB Cream Della Labo Che è Ottima Davvero E anche se ha Un costo Abbastanza Elevato Ce li spenderei Questi soldi Perché Non vi comprate Una BB Cream Vi comprate Un fondotinta Però Che vi da La Che Vi comprate Un fondotinta Che è leggero Come una BB Cream Perché Sul Sul viso Non si avverte Proprio Questo prodotto È Fantastico Come potete Vedere Ha una consistenza Abbastanza Liquida Ha una coprenza Spettacolare Questo è Il prodotto Questo Vi faccio vedere Una volta steso Il prodotto Poi Dà un bellissimo Effetto illuminante Al viso Oltre che Super Super Idratante Io L'adoro Davvero L'adoro Si stende Dà un bellissimo Effetto cipriato Al viso Bellissimo Non necessita Neanche di cipria Perché Come potete vedere Ha un effetto Proprio matto Però Io comunque Per fissarla Ci metto Un pochettino Di cipria Trasparente Io Ve la Straconsiglio Perché davvero È Molto Buona Come BB Cream Se volete Una BB Cream Buona E utilizzate Solo la BB Cream Come prodotto Viso Quindi Volete Un prodotto Valido E puntare Proprio Su un prodotto Viso Buono Vi consiglio Questa qui Di Labbo La mia Nella tonalità 013 Alabaster Ed è un BB Cream Con acido Ialuronico È 40 ml Di prodotto E ha una scadenza Di 12 mesi Ed è questa qui E poi Per finire Vi faccio vedere La palettina Che a me è piaciuta Tanto Però mi rendo conto Che ha un prezzo Eccessivo Perché costa Diciamo Quanto la BB Cream Se non erro 35 euro Per 5 cialdine Mi sembra Un pochettino Eccessivo Però gli ombretti Davvero Valgono Tantissimo Non vi dico Di acquistarla Perché voglio dire Mi rendo conto Che è costosa Però magari Per le amanti Dei prodotti Di alta profumeria Se non avete provato La Labbo A differenza Delle palettine Di Chanel E Dior Che costano 50 euro E non scrivono Una mazza Compratevi Queste qui Della Labbo Perché hanno Una scrivenza Pazzesca Io in particolare Questo mese Ho utilizzato Molto l'oro Perché Il Natale Insomma L'ho utilizzato Moltissimo Ed è bellissimo Io però Per renderlo Ancora più luminoso Lo applico Con una base Quindi Dà ancora di più Questo effetto Vedete Giallo Oro Molto molto bello E ho anche Utilizzato Questo verde Che è matt Perché all'interno Abbiamo tre matte Due shimmer Che è l'oro E il verde acqua Ed ho utilizzato Questo verde qua In fondo a tutto Questo qui Ed è Questo Bellissimo colore Vedete Comunque Sono prodotti Super È un prodotto Davvero Super Super Scrivente Questa qui È quella Che sta in pubblicità Della Labbo Ed è la numero 01 Peacock Il packaging È specchiato E mi dovete scusare Che è pieno di Io mi pulisco Che è pieno di Di impronte Ma avendo il packaging Specchiato Purtroppo Tende Insomma A sporcarsi La La palettina Comunque Promuovo Questi due prodotti Perché Li ho provati Questo mese E mi ci sono trovata Benissimo Questa qui dura Tantissimo Dura tutto il giorno Perché l'ho utilizzata Anche quando sono stata A lavoro In questi giorni Orario continuato Al negozio Devo dire Non ha fatto una piega Sono tornato a casa La sera Stanca Morta E Era intatta Vero Quindi Quando mi sono struccata Si è tolta Anche insomma La base Non si è rovinato Il trucco Devo dire È un prodotto Davvero Molto molto valido E poi il packaging Mi piace molto Perché è fatto a tubetto Con un comodo dosatore A pompetta Sotto E niente ragazze Questi sono I miei prodotti Promossi E bozzati Io colgo l'occasione Per farvi Per mandarvi Un Bacione fortissimo E farvi E farvi gli auguri Di un Felice anno nuovo Perché questo anno Insomma Sia per voi Importante Che vi permette Insomma Di realizzare Tutti i vostri sogni Quello che sperate Io vi mando Un bacione Mi raccomando Trascorrete una bella vigilia Divertitevi Con gli amici Andate a ballare Fate Insomma Passate un ultimo Dell'anno In allegria E spensieratezza Ci vediamo L'anno prossimo Ovviamente Anche quest'anno Farò La classifica Top Dei prodotti 2013 Quindi Il primo video Dell'anno nuovo Sarà sui Top Del 2013 Se vi interessa Non perdete Il mio prossimo video Io vi mando Un bacio Se le mie Ci vediamo Prestissimo Nel prossimo video Ciao